dal limite al non limite la via della conoscenza attraverso attilio m voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail.com nel controprocesso si crea un'abitudine a dubitare di qualunque percorso di trasformazione interiore per smetterla di puntare lo sguardo su di voi e spostarlo su altro da voi dal limite al non limite in cui appare un mondo che non parla più di voi perché vi libera dalla prigione del vostro io però attenti perché anche nel controprocesso può riaccendersi la voglia di sentirvi importanti ed è quando avendo spostato lo sguardo oltre voi vi vivete come i protagonisti di quel passo in più compiuto verso il tirarvi in disparte